Diciamo ho avuto un po' sfortuna nel primo mio anno di B, ho avuto un brutto infortunio ma sono venuto qui appunto per rilanciarmi, ho avuto la piena fiducia dal direttore, ero contentissimo di venire qui e sono pronto per aiutare tutti i miei compagni e la società a tornare dove meritano. Alla Spal sono stato benissimo ma avevo bisogno di altro, cercavo una spinta in più per me e quindi sono venuto qui per giocare di più e mi piaceva questa società, avevo altre richieste però ero subito convinto di venire qui quindi ho accettato questa richiesta. La partita con il Venezia abbiamo giocato 4-3-3 e quello diciamo è il mio ruolo che ho sempre fatto, posso giocare sia a destra, preferisco giocare a destra ma anche a sinistra posso giocare tranquillamente. Invece l'ultimo che ho fatto è il 3-5-2, comunque posso giocare anche dietro un'altra punta e mi adatto, ascolto il mister e do il mio meglio come sempre. La prestazione di Ascoli penso che ci porterà la vittoria con l'Entella, abbiamo fatto una prestazione difficile per quello che è successo in campo ma allo stesso tempo siamo stati squadra e quello che ci mancava e siamo pronti per rilanciarsi e pronti per prendere questi tre punti.